presentazione cappello music at cari amici di youtube e soprattutto cari amici di instagram benvenuti in questo mio nuovo video quest'oggi vi voglio presentare questo cappello che non è un cappello qualsiasi ma è un cappello chiamato music hat e quindi è un cappello che oltre a essere indossato in testa per questa stagione invernale può trasmettere anche della musica mi è arrivato ieri come regalo per natale e dopo averlo provato ho cercato di capire un po adesso passiamo alla presentazione abbiamo questa parte qua dove abbiamo l'accensione spegnimento questo tasto qui in mezzo ma nonostante c'è il flash del telefono si riesce a vedere qualcosa vediamo se adesso con il flash del telefono vediamo se riesco a spegnere un ultimo flash del telefono no durante la ripresa direi che non si riesce comunque questo è una luce anche se non si vede molto passiamo ad altro qui abbiamo il tasto per avanzare col volume farà alzare o abbassare il volume se sono premuti di più e più tempo questi due tasti fanno anche saltare avanti e indietro nel brano infatti qui le istruzioni sono in inglese quindi se mette a fuoco allora come si vede di qua volume up o next volume down o previous quindi hanno la doppia funzione qui abbiamo diciamo più che altro la spiegazione della delle varie funzioni o delle varie troppo sei la vicino vedo che va fuori fuoco e niente vedo che non si riesce a vedere bene dal vicino perché tende ad andare fuori fuoco comunque qui abbiamo qui abbiamo la usb incorporata che bisogna bisogna caricare subito infatti qui abbiamo le istruzioni italiano qua sotto allora come usare caricare completamente prima il cavo usb collegato o il proprio cavo usb android per due ore e infatti ieri sera l'ho caricato per due ore anzi l'ho lasciato tutta la notte collegato al computer per il modo che si caricasse praticamente qui sotto qui abbiamo la parte dove si collega questo qui e poi lo abbiamo collegato alla porta usb del computer e si è caricato tutta la notte adesso passiamo al secondo punto quindi accende il bluetooth sul tuo telefono metto un attimo in pausa il video così accende il bluetooth sul telefono bluetooth sul mio telefono acceso vediamo la seconda allora aspetta che lo spengo un attimo che così ok allora terza terza opzione premere a lungo il pulsante di accensione finché la luce rossa e blu lampeggia di volta in volta solo in questa condizione il telefono può cercare il bluetooth del beni accendiamo qui che ho che ho qui sta lampeggiando come si può vedere adesso dovrei collegarlo al telefono direi che per adesso la ripresa la sospendiamo e vediamo poi come va a finire ci vediamo tra poco ebbene, missione compiuta sono riuscito a collegare il bluetooth del mio telefono al cappello e ho già fatto una prova di ascolto da un video di youtube preso dal mio telefono devo dire veramente ottimo la prova è riuscita quindi sono veramente soddisfatto di me e direi che con questo questo video di presentazione è a posto possiamo spegnere qui il cappello quindi questo video finisce qui ci vediamo in un prossimo video grazie per la visione e statemi bene grazie per la visione thanks for watching grazie grazie per la visione